Caro mio, signor curato, ma che cosa è mai successo? Che lucia col suo promesso, voi avete a quanto pare, rifiutato di sposare. Monsignore avrà sentito che intorno a quell'affare si sono dati assai da fare, personaggi prepotenti, intoccabili e potenti. Lei non sa che i due sposini, quei due poveri innocenti, con l'inganno e appassi i denti, sono venuti in sacristia ed io sono fuggito via. C'erano pure i testimoni, se restavo lì a sentire, li dovevo benedire, il coraggio è un altro affare, uno non se lo può dare. Come il coraggio non se lo può dare, serve la fede, carità e speranza. La fede è un altro affare, può vivere nel buio dell'ignoranza. E ai fili ricatti sotto stare, perché il maligno vigilanza è credibile, che il coraggio è un altro affare, la fede avanza ed è avanza. Ho da dirti una gran cosa, un signore, un monsignore. Questa borsa di valore, a noi due ha regalata, ma cos'hai pari sdegnata? Mamma, mamma, mamma mia. Io di voi ho grande stima e dovevo dirlo prima. Prima è che ho fatto un voto degno, mantenere devo l'impegno. Le parole sono scure, ma non è un voto sensato. Al tuo Renzo hai poi pensato, a fuggir sarà costretto. Ma qui a casa, amore, il letto. E' ancora la speranza. L'ultima di Pandora Vedrai che poi l'aurora A te sorriderà A te sorriderà Alla Madonna Di risolver la questione Ma c'è Renzo Ma c'è Renzo In discussione Mi dispiace poverino Forse non era destino Mi dispiace poverino A te sorriderà Fatma 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 Non ci credo, finalmente la rivedo, c'è la peste ma che fai, via di qui tu presto vai. L'ho già avuta grazie al cielo, sono qui a cercare Lucia, ma non so più dove sia, qui Lucia. Nel nazaretto, è così, così han detto. E la è qui, almeno spero. L'ho cercata la Milano. Ho girato e chiesto in vano. Non so nulla, neanche io, ma è tua moglie, santo il Dio. Lei non sa quel che è successo, ma mia moglie non è ancora. Sono andato alla malora. Impestato e ricercato, in esilio in altro stato. So che non sei malfattore, ma c'è stata una congiura. Nel voler la tua cattura. Ma ora va, così sia, ma ora va. Ma ora Valdo è così sia, ritrovar dobbiamo luciare. Oh Lucia, ma siete voi, ho trovato finalmente, ma confusa è la mia mente, perché qui siete finita, dalla peste son guarita, ma sono io che ora vi chiedo, perché mai siete venuto? Non avete voi saputo che mi sono consacrata, ad un voto son legata. Come voi mi domandate, perché mai sono qui venuto? Non appena che ho potuto, voi non siete la Lucia che consideravo mia. Ma io sono ormai promessa, la Madonna sempre prego. Siete solo una fanciulla, la promessa non va a nulla. Fra Cristofaro è presente. Ma io sono ormai promessa. Ma io sono ormai promessa. Chi di lui è più malato? Si lo vedo, il caro amico, che a noi or si avvicina. E stentando ormai cammina, il suo corpo ha trascurato e al dolore si è dedicato. Fra Cristofaro mi ascolti, quando sono andato via. Cosa ha fatto la Lucia? Cosa ha fatto la Lucia? Senza alcuno consultare. Cosa ha fatto la Lucia? E scordandosi l'altare. E scordandosi l'altare. Come vergine in eterno. E ha spedito me all'inferno. Questo fatto non è vero. Questo fatto non è vero. Renzo tu non sei sincero. E' riuscita. 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 Alisima Larresi. E' riuscita. A commenti activi. Hai bendato. Hai bendato. La parola. E pertanto tu da sola non potrai sciogliere i patti, né coi voti, né coi fatti. Questo sacro matrimonio, quanto prima sia da fare. Musica 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 Musica